Boom di contagi nella giornata di ieri a Torre del Greco. Nella cittadina torrese si sono registrati infatti 164 nuovi casi di positività al Covid-19, di cui solo due in regime ospedaliere e i restanti in isolamento domiciliare. Si registra inoltre un ripositivizzato e il passaggio di tre soggetti dal regime domiciliare a quello ospedaliero. Comunicate anche due decessi, si tratta di un classe 1955, la cui positività Covid è stata attestata post-mortem e un classe 1958. Il bilancio a Torre del Greco, quindi, conta 52 ospedalizzati, 903 in isolamento domiciliare e il numero totale dei morti che sale a quota 109. A Torre annunziata, invece, sono 40 nuovi casi di contagio a fronte dei 337 tamponi effettuati, con un indice di positività che si attesta all'11,86%. Al contempo, si registrano anche 65 nuove guarigioni e il decesso di un uomo di 81 anni. Scende quindi il numero di cittadini attualmente positivi nella città oplontina, che ad oggi sono 793, di cui 41 con variante inglese. Il sindaco Ascione ha infatti emanato un'ordinanza che vede la chiusura dalle ore 11 alle ore 22 di tutte le strade principali della città, soggette a maggior affollamento. Aumento dei casi registrati nel weekend anche a Castellammare di Stabbia, dove i positivi sono 231 a fronte dei 1000 tamponi effettuati. Sono 15, invece, le guarigioni, tra cui 4 ragazzi di età compresa fra i 13 e i 14 anni. I positivi nella città stabiese sono quindi 1860, con un numero di decessi a quota 60. A Ercolano sono 277 i tamponi lavorati, di cui 59 hanno dato esito positivo a fronte di 40 persone guarite, uno dei quali con variante inglese. I cittadini positivi totali sono 416, 41 dei quali con variante inglese. A San Giorgio a Cremano il numero dei positivi in città è di 230, di cui 98 negli ultimi 5 giorni, con un'impennata di contagi sui cittadini di età compresa fra i 6 e i 10 anni. Resta quindi delicata la situazione in campagna, alla vigilia di un nuovo DPCM che sarà varato a breve e che vedrà quasi sicuramente una rimodulazione delle fasce, rendendole più rigide nelle aree che presentano un quadro di contagi critico. La campagna, ad oggi con un rapporto tamponi positivi pari al 12,96%, resta quindi sull'attenti e non lascia sfumare il pericolo lockdown generalizzato in tutta la regione.